che magari vogliono intervenire in questa occasione, quindi mi limiterò a dire Nicola che ovviamente come ti ho detto già quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, noi saremo una minoranza leale all'interno di questo partito e ci differenzieremo dalle minoranze precedenti perché noi non spareremo sulla diligenza, perché noi cercheremo di portare nella nostra diversità, io non ho capito se il riferimento alla fine dell'intervento del Presidente riguardava la minoranza attuale o altro, io ho sempre imparato Paolo che normalmente quando bisogna cercare dei posti si passa in maggioranza e non certo si resta in minoranza, noi comunque rimarremo in minoranza, abbiamo volentieri rinunciato a qualunque tipo di impegno dal punto di vista della maggioranza in segreteria e anche negli altri organismi che saranno creati perché penso che sia necessario un elemento di coerenza rispetto a quello che abbiamo sostenuto per un'intera campagna elettorale e che troviamo confermato anche nell'impostazione che tu hai dato alla tua relazione, premesso che noi non abbiamo nessun problema a riconoscere come per esempio ho detto anche fuori prima di entrare, io sono stato positivamente colpito dalla scelta di fare come prima iniziativa da parte del segretario quella di andare alla TAV, è figlia di un impegno e di un percorso che ha riguardato tutti noi. Credo che queste primarie siano state un risultato importante e mi permetto di dire che è un risultato importante al quale ha lavorato ovviamente chi ha sostenuto Nicola ma anche tutti gli altri che hanno contribuito a questo risultato. Io posso dire e posso testimoniare Nicola che certo è molto importante allargare e io ne sono assolutamente consapevole, mi permetto di suggerirti di ragionare sul fatto che noi dobbiamo allargare molto anche lì dove tante persone non sono venute a votare a queste primarie e non ci sono venute perché magari sono rimaste deluse, sono rimaste frustrate, sono rimaste allontanate da quello che è successo nel partito e nei confronti del governo in questi ultimi cinque anni. Quelle persone non le troviamo probabilmente a sinistra, anzi a sinistra ci troviamo quelli che l'hanno determinato questo successo.